Buonasera, come avete visto anche da questo video che si intitola Il Cinematic Journey. Hamilton è da un mucchio d'anni che ha un grande impegno, un grande interesse verso il cinema e verso i suoi protagonisti e soprattutto verso i protagonisti che lavorano dietro la macchina da presa, che lavorano alla realizzazione di un film. E infatti già dall'anno scorso Hamilton ha stabilito una collaborazione con il Torino Film Festival e l'anno scorso abbiamo inaugurato l'Hamilton Behind the Camera Award Torino Film Festival 2018 e quest'anno abbiamo l'Hamilton Behind the Camera Award Torino Film Festival 2019 che premia un regista tra le varie sezioni non competitive che si sia distinto, che si distingua per un'opera di rilievo tenendo conto soprattutto della giovinezza del regista. Cioè Hamilton è molto interessata ai giovani filmmaker. Prima di passare al Beyond the Camera Award Torino Film Festival 2019 vi faccio vedere un altro video che si chiama Dream of Flight ed è un cortometraggio realizzato da Hamilton. A questo punto chiamo qui con me Matteo Sovera, Brand Manager di Hamilton e Dario Costa che è il protagonista del corto che avete appena visto ed è una sorta di Hamilton Ambassador per consegnare il premio di quest'anno. Grazie, grazie, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao, ciao. Questo per noi è il secondo anno che partecipiamo al Torino Film Festival ed è sempre una grande emozione. Innanzitutto quindi grazie per quello che fate per il cinema. Come avete visto un po' dal video iniziale, Hamilton è considerato The Movie Brand e questo perché il lavoro che c'è dietro la cinepreso è un lavoro che dura da più di 80 anni in più di 500 pellicole a livello di product placement. Il cinema è un po' la nostra passione a livello generale e oltre a cercare di far parlare della marca attraverso il cinema cerchiamo anche di, in un certo senso, aiutarlo e cercare di sviluppare quest'industria. Io sono qua stasera con Dario Costa che è il nostro brand ambassador e primo atleta italiana ad aver partecipato e vincere una Red Bull Air Race a cui siamo molto grati perché quest'anno attraverso appunto il suo impegno siamo riusciti a realizzare un cortometraggio in cui abbiamo trovato una combinazione tra le nostre passioni ovvero il cinema e il volo. Esattamente. Esattamente. Allora, intanto a questo punto invitiamo il protagonista della serata il regista del FIC che vedete tra poco, Brian Welch. Allora, benissimo, noi siamo contentissimi stasera appunto di dare il premio a Brian quando identifichiamo in un film o in un regista dei valori che corrispondono a quelli poi di Hamilton e a quelli che noi cerchiamo nei film e nei giovani attori ecco cerchiamo in un certo senso di celebrarlo di poter iniziare anche un percorso insieme. il film The Beats che vedremo stasera è sicuramente importante da questo punto di vista e i valori che noi abbiamo identificati quindi di freedom, di libertà di self-determination, autodeterminazione e di audacia sono poi quelli che rispecchiano un po' la marca e quello che noi vogliamo fare emergere. A questo punto tu dovevi dire questa frase dovevo dire una frase? No perché è una frase curiosa e bella da dire Allora la dico, esatto, esatto sì, diciamo che la frase sottolinea un po' il senso esatto La frase è They want to privatize our fucking mind keep us in our separate little box but we won't let them it's a living beat they can't kill it è una frase del film di Brian e di fatto è una frase centrata in quello che noi poi vogliamo fare emergere attraverso Hamilton vogliono privatizzare la nostra fottuta mente vogliono tenerci in piccole scatole separate ma noi non glielo permetteremo è un ritmo vivente e non potranno mai ucciderlo grazie grazie e passiamo alla consegna del premio perfetto grazie mille beh io vi volevo ringraziare perché sono molto contenta di questa collaborazione perché scegliete i film giusti grazie grazie anche a te ve lo devo dire spassionatamente ci proviamo ecco proviamo a fare del nostro meglio bene grazie Brian grazie grazie mille grazie adesso chiacchieriamo un po' del film un attimo con Brian grazie Matteo grazie grazie Matteo grazie Dario grazie a te e poi l'orologio ah beh certo la cosa più importante sì non ho un orologio quindi grazie ci stavamo dimenticando la cosa più importante non avendo un orologio sono particolarmente felice di ricevere questo no allora io dirò solo due parole su questo film prima cosa dico qualcosa che ho già detto prima Brian è che purtroppo questo è un quarto film e quando l'abbiamo visto noi l'avremo assolutamente voluto mettere in concorso però come sapete nel concorso lungometraggio del Torino Film Festival ci stanno solo opere prime secondo ed è proprio eccezionalmente terze sono studiato tutti i mdb tutti i siti possibili per cercare di vedere se poteva essere un terzo ahimai non lo è e per cui purtroppo è fuori concorso perché questo film ha un'energia una vitalità una forza e un impegno che però passa attraverso queste energie veramente straordinarie sembra veramente di vedere quando il cinema britannico riesce davvero a agganciarsi con la realtà del suo paese è ambientato nel 94 in Scozia e io vi dirò solo una cosa che pare io non la sapevo che in Scozia ci fosse una legge un regolamento in quegli anni dove che dava alla polizia il potere di disperdere gli assembramenti di più di 20 persone all'aperto se queste persone stavano ascoltando una musica caratterizzata da una dall'emissione di una serie di battiti ripetitivi cioè i beats e questo film c'entra molto con tutto ciò lo vedrete poi Brian Well firstly thank you to Hamilton for the award and the watch it's slightly surreal but I'm very grateful I was surprised to see that Hamilton had such a legacy of providing watches to all these movies like 2001 A Space Odyssey and Interstellar so you learn something new every day and yeah the film is set in 1994 as Maruela was explaining when this piece of draconian legislation called the Criminal Justice and Public Order Act attempted to outlaw gatherings of people of 20 or more around music characterised wholly or predominantly by the omission of a succession of repetitive beats and it was this you know crazy attempt by Whitehall to try to describe rave culture which they saw as demonic and terrifying and so you can imagine these guys in suits sat around the table trying to describe this music in this scene that they had absolutely no capacity to understand I'm talking a lot and I'm aware that this needs to be translated so I'll pass over to you now innanzitutto grazie infinite davvero ad Hamilton per il premio che mi ha dato e per l'orologio sono immensamente grato e devo dire che sono rimasto particolarmente sorpreso nello scoprire la lunga storia che lega il marchio al cinema wow 2001 Odissea nello Spazio e Interstellar davvero non si finisce mai di imparare qualche cosa non lo sapevo come Emanuela ha detto il mio film è ambientato nel 1994 quando fu promulgato questa bizzarra legge che si chiamava Criminal Justice and Public Order che è stato il tentativo appunto da parte della politica inglese di dichiarare fuori legge gli assembramenti di persone superiore alla ventina nel tentativo di porre fine alla cultura rave che di fatto stava nascendo bollandola come demoniaca e l'incarnazione del male e veramente la formulazione di questo divieto contenuto in questo progetto di legge che poi è diventato legge la dice lunghissima sull'incapacità da parte di queste persone in giacca e cravatta di riuscire a descrivere la scena musicale di quegli anni e il tentativo appunto di mettere fine a quel movimento musicale di riuscire Non voglio dire molto più, perché penso che sia strane di parlare molto sui film prima che la gente abbia la possibilità di guardare il film, perché, spero, l'idea e la conversazione sono importanti in questo film, e non ho bisogno di pre-explanare in qualche modo. Quindi, grazie molto, e questo suono bene, sembra bene, e, spero, non funziona bene. Grazie. Non mi piace parlare molto a un pubblico prima che scopra un film, e un film, in teoria, dovrebbe riuscire a dire tutto da solo. Grazie a voi di essere qui questa sera, le condizioni sembrano ideali per vedere il film, e quindi, buona visione, grazie. Bene, grazie Brian, grazie Hamilton a tutti, e a tutti veramente buon divertimento. Grazie a tutti.